Grazie Presidente, grazie Ministro, grazie Sottosegretario per l'informativa puntuale e precisa. Questo è il mio primo intervento in aula e mai mi sarei immaginato e mai mi sarei augurato di doverlo fare cominciando con le condoianze a una famiglia che ha perso un bambino di 21 giorni, di ragazzi morti. Per questo esprimo chiaramente a nome del gruppo Lega le condoianze alle famiglie delle vittime, solidarietà e vicinanza alle famiglie e alle popolazioni di Ischia. La cosa che sto notando in questo periodo, come diceva giustamente il Ministro prima, lei ha usato un termine, entro subito nel merito, sento parlare, leggo sui giornali, che si parla molto di due cose che sicuramente sono con cause, non so se sono le cause. Parlo del cambiamento climatico e dell'abusivismo edilizio per motivi che di qui a breve andrò a spiegare. Mi piace soffermarmi su una cosa perché sta passando l'isola di Ischia come un'isola dove esistono tanti abusi, tanti abusi, molti di più rispetto al resto d'Italia. 25.000, 24.000 richieste di sanatoria su 60.000 ischitani. Ricordo prima di tutto a me stesso che in Italia ci sono, sono state presentate, 15.000.000 di richieste di sanatoria su 60.000.000 di italiani. Andiamo a vedere la proporzione la stessa, la dico giusto per dare la dignità al popolo ischitano che in questo momento sta passando per volontà di qualcuno come un popolo di abusivi. E questo credo sia una mancanza di rispetto. Perché dico questo? Perché diceva prima il Senatore Renzi che la storia, la storia del passato è importante. Sì, è importante. Ischia ha avuto come alluvioni 1557, 1662, 1762, 1767, 1796, 1827, 1841 e 1863. In quei periodi, provocando dei grossi danni, non c'erano né cambiamenti climatici né abusivismo edilizio, che è un problema, va affrontato ma è in altra sede e non in un momento che un posto ha avuto una tragedia. Nel 1883 Benedetto Croce ha perso gran parte della famiglia a Ischia per un terremoto che è durato 10 secondi. Nel 1910 ad Ischia c'è stata un'alluvione e c'è stata una colata di fango che ha ricoperto di 6 metri la chiesa di Forio di Ischia che è uno dei sei comuni dell'isola. Del 1910. Quindi qual è il problema? Perché se tutto questo è avvenuto 100 anni fa, 200 anni fa, quando non c'era un problema di abusivismo edilizio e non c'era un problema di cambiamenti climatici, è chiaro, come ha detto giustamente prima il Ministro, possono essere delle concause importanti sulle quali si dobbiamo soffermare senza dividerci in partiti ma cercando di risolvere un problema, due problemi che riguardano questo Paese. Ischia è un'isola vulcanica, mi hanno spiegato degli orologi schitani che le isole vulcaniche hanno due tipi di rocce, una più granitica, più forte e un'altra che si va a creare nel corso dei millenni con le ceneri della lava che si va a solidificare. Questo inevitabilmente su un'isola che ha 40 chilometri di superficie è un monte di mille metri. Basta, voglio dire, una pioggia un po' più forte perché si crei questo problema. E cosa hanno fatto i nostri nonni e i nostri avi perché tutto questo non accadesse? Una sana cultura rurale. Una cosa che stiamo perdendo in questo Paese che erano quei terrazzamenti che consentivano, come posso dire, di costituire dei freni naturali quando l'acqua dal monte portava con sé tutta la terra e tutta la lava. C'erano negli alvi le briglie capovolte. Mi spiegavano i geologi sempre che per frenare una discesa inevitabile di terra, di lava dal monte a valle c'erano queste briglie capovolte. Briglie capovolte che non ci sono più perché non c'è più una manutenzione. E allora ha fatto benissimo il nostro segretario Matteo Salvini a esprimere solidarietà ai sindaci che spesso vengono attaccati perché in questo Paese io trovo che stiamo facendo un errore. Noi ai sindaci stiamo passando responsabilità e non stiamo passando potere. E basta studiare un libro di organizzazione aziendale per rendersi conto che quando a un dirigente si passano delle responsabilità e non si passa il potere quella macchina, al di là del valore della persona, diventa una macchina inefficiente e inefficace. E allora senza sciacallaggio, senza vedere separazioni, io mi sono andato a vedere un po' di numeri perché se vogliamo, poi riprendo dopo questo discorso, 13 anni fa il Ministero dell'Ambiente aveva stanziato 3 milioni per mettere in sicurezza il costone di Casamicciola. 13 anni fa non sono stati fatti neanche i progetti. Lo stesso, digasi, per il Ministero dell'Interno che aveva stanziato 2 milioni e mezzo. La Regione Campania aveva 380 mila euro per preparare un piano di prevenzione per i rischi aerogiologici in Campania, è stato speso il 20%. Su 4 miliardi di finanziamenti europei a disposizione sono stati spesi 1 miliardo e 9. Nel 2017 Ischi ha avuto un terremoto. Nel 2017 la prima conferenza di servizi si è tenuta il 24 ottobre del 2022. A distanza di 5 anni e mezzo dal terremoto si è avuta la prima conferenza dei servizi in merito a questa cosa. E allora non diamo la colpa agli ischitani, non diamo la colpa ai sindaci e immaginiamo una cosa che non è stata ricordata e è bene ricordarla secondo me oggi in quest'aula. Quest'estate la prima rivista turistica al mondo, la rivista americana Travel and Leisure ha definito Ischia l'isola migliore al mondo. Lo ha detto Travel and Leisure quest'estate e ha messo Ischia davanti alle Figi, alle Maldive e all'isola di Bali. Questo lo dico perché abbiamo la possibilità e il dovere di fare tutta una serie di cose. Mi complimento con il governo perché in meno di 48 ore ha proclamato lo stato di emergenza, ha nominato un commissario, ha stabilito dei primi fondi e il MEF sta studiando come interrompere i versamenti e i tributi per le persone che sono state colpite dall'emergenza. Abbiamo fondi nel PNRR per provare a preparare un piano di prevenzione che è fondamentale per il rischio idrogeologico, non riguarda solo Ischia, non riguarda solo la Campania. Se pensiamo alle Marche, all'Abruzzo, quello che è successo, il nostro paese è meraviglioso ma come rischi morfologicamente, come rischi idrogeologici, è il paese più a rischio d'Europa. Dobbiamo intervenire e io non ci sto a far passare che quello che è successo ad Ischia la colpa non è di nessuno e non possiamo neanche far passare che la colpa è di tutti perché è come se fosse che la colpa non è di nessuno. E la colpa non sarà neanche di quella persona che sarà condannato, o quel singolo persona che non ha messo quella firma su quell'atto qualora ci dovesse essere una condanna da parte della magistratura. La colpa è di ognuno di noi. La colpa è di ognuno di noi se c'è un ragazzo di 21 giorni che non continuerà a vivere, se c'è un ragazzo di 15 anni che non farà la festa di 18 anni perché abbiamo dato importanza alle cose urgenti e abbiamo smesso di pensare a lungo periodo. Se la politica torna a avere una visione, cosa che mi auguro e sono convinto che questo governo avrà probabilmente altre tragedie del genere e non succederanno più. Grazie.